www.e-news.it L'uscita da scuola per un sedicenne fanese era diventata un vero e proprio incubo, perché alla fermata dell'autobus era costretta a subire, in maniera quasi sistematica, le angherie di due coetanei. Spinte, schiaffi e persino qualche pugno, una vera e propria azione di bullismo che è durata diversi mesi e che si è interrotta solo quando il sedicenne ha avuto il coraggio di raccontare al padre quello che avveniva quasi tutti i giorni al Pincio. L'uomo ha così denunciato i due bulli ai carabinieri del capitano Cosimo Giovanni Petese, che hanno messo la parola fine a questa brutta vicenda. Di loro se ne occuperanno il Tribunale per i minorenni di Ancona e i servizi sociali del Comune. Pericolo e degrado, i problemi di via Risorgimento raccontati da una cittadina. Via Risorgimento è una delle strade più pericolose di Fano. Le mamme che vogliono portare i loro figli ai passeggi si trovano a dover camminare in mezzo alla strada a causa delle macchine che vengono parcheggiate sul ciglio della strada. Per non parlare del parcheggio di via Risorgimento, pieno di buche, di sterpaglie, di pioppi che nel mese di maggio e giugno impediscono ai residenti della zona di aprire le finestre, muoversi di casa per la continua neve estiva, la chiamiamo così. L'Opera Padre Pio cerca una nuova sede per la distribuzione degli indumenti usati. Sostituire gli spazi destinati al servizio indumenti con un centro diurno dove accogliere i più poveri durante l'inverno è l'obiettivo dell'Opera Padre Pio di Fano guidata da Gabriele D'Arpetti. L'associazione, fra i tanti servizi offerti, tra cui la mensa di San Paterniano, il centro notturno e il servizio docce, propone dal 1998 la distribuzione di indumenti coperte e scappe bisognosi. Sei volontari sono al servizio di chi, il lunedì e il venerdì, dalle 10.15 alle 12, si presenta nella sede di Via Malvezzi a scegliere giacche, jeans, scarpe e vestitini per bambini. Ora l'associazione cerca uno spazio di circa 80 metri quadri, dal basso valore commerciale all'interno delle mura della città, per dare continuità al servizio a poca distanza dalla sede centrale dell'associazione. Oltre 400 giovani si sono incontrati questa mattina al Cityplex per l'atto finale di New Tribes. Il progetto ha due fasi. Da una parte una fase emotiva con il giornalista Luca Pagliari, che fa degli spettacoli per stimolare l'emotività dei ragazzi. Dall'altra una rielaborazione fatta a scuola con gli insegnanti e con il supporto di psicologi rispetto a questi eventi emotivi. Abbiamo affrontato alcuni temi, fra cui quello della legalità, con la storia del sindaco Vassallo di Pollica, e con un ragazzo invece che ha avuto un incidente stradale, che giocava a pallone ed è rimasto quindi con problemi di handicap. E un'altra storia, quella di un sogno, un sogno di uno che viaggiava in deltaplano e che poi è morto non per viaggiare in deltaplano, ma in un banale incidente. E-News torna domani alla stessa ora. Buona giornata!